No, non vorrei morire. Che bene o male la morte fa paura e non è mai sicura la fine che una fa. Pabbia, che ho Padre Eterno o per giustizia o per si divertì ma poter riemannare pure all'inferno. Io vorrei arrivare ormai, sempre, mattina e sere, avverina, primaverina, autunna, in tal'està, senza sonnare, senza avere, senza sapere mai niente, tanto che mi fa schifo, come una gente. Per me spiegare più chiaro, una puntata io vorrei dormire tutte le 24 ore, la giornata. Grazie. 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 Grazie.